buongiorno a tutti ragazzoli benvenuti in questo nuovo e velocissimo video sono qui perché ho trovato una cosuccia molto molto interessante forse l'avete già vista speriamo che sto cercando di capire se quello lì vuole venire a rompere le ballucce oppure no e il funghetto è quello lì adesso vi faccio vedere bene dove ci troviamo siamo a sinistra di foresta frignante naturalmente siamo in mezzo alla boscaglia diciamo tra gli gnomi potrete scorgere anche la casetta degli gnomi dietro questo albero che vedete quindi con calma adesso poi è difficile da trovare ragazzi veramente veramente tanto difficile da trovare ma vi faccio vedere la particolarità di questo funghetto perché se voi ballate come sto facendo adesso il funghetto si attiva quindi si sveglia ragazzi poi con 100 di legna basterà solamente dargli 100 di legna e funghello farà qualcosa di molto molto particolare è veramente carinissima è attiva da pochi minuti questa questa cosa vi ricordo che è difficile da trovare per ora si può trovare solo in mezzo al bosco a sinistra di foresta frignante dove c'è la casetta e se gli date 100 di legna guardate cosa fa guardate la vita come sale e se ci allontaniamo guarda ora come ci segue sembra un cagnolino ragazzi è troppo bello veramente troppo troppo bello non potete non farlo vedere i vostri amici quindi condividete questo video fatevi vedere questa curiosità e provate più volte io ho dovuto provare 5 6 volte se voi andate in parco giochi invece lo trovate al 100 per cento di spawn è difficile lo stesso da trovare perché non ha una posizione fissa però potrete trovarlo non si attiva in parco giochi mentre io ad esempio ho fatto una partita in singolo si attiva in questo caso io sono morto mi ha ucciso questo qui e a questo punto lo può attivare lui ragazzi il funghetto basterà dagli 100 di legna vedete che lo sta curando non vedete la vita però fidatevi che lo sta curando io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like noi ci vediamo in live su twitch per i ragazzi del shop mi raccomando il codice creator lollo duke 97 per supportarmi nel shop di fortnite un bel like iscrivetevi a me ciao ciao ciao